Cominciata la partita tra Epimilf e Two Goals One Cup, girone B del torneo Unileague. I cappelli, attraversone in aria, calcio di rigore, calcio di rigore decretato dall'arbitro, quindi rigore per Epimilf, rigore per Epimilf, parte la conclusione, il tiro spiazzato esposito 1-0 per Epimilf in apertura, palla in aria di rigore, adesso il tiro, vicino al raddoppio Epimilf con questa conclusione al lato di poco, ma c'è stato fallo secondo l'arbitro Liguori, calcio di punizione battuto rapidamente, palla a limite dell'aria, la conclusione, palla fuori, pericoloso adesso la formazione in maglia bianca, portiere che opera immediatamente il rinvio, veloce, palla troppo lunga però, è palla che si perde sul fondo del campo e su questa azione si conclude il primo tempo, Epimilf in vantaggio per 1-0 su calcio di rigore realizzato all'inizio frazione. Cominciata la ripresa si riparte dall'1-0 Epimilf nella prima frazione realizzato su calcio di rigore. Traverso una in aria, la palla finisce in gol per il 2-0 Epimilf, c'è stata una carambola su un calcio d'angolo, palla che si è insaccata alle spalle del portiere esposito che nulla ha potuto nell'occasione, 2-0 Epimilf. Non c'è fallo secondo l'arbitro, quindi De Magistris può tentare la percussione, De Magistris! 3-0 Epimilf, bella percussione. Traversione, palla in aria di rigore! 4-0 per Epimilf, si unisce alla lista dei marcatori, anche Gianluca Scotto, Gianluca Muto scusate, in aria di rigore, il contrasto regolare di De Laversano che però perde palla, la traversa di Ciccols One Cup, bella conclusione, Gallo battuto. Ora De Laversano, percussione sulla destra, doppio passo entra in aria di rigore, serve Gianluca Muto, palla in mezzo, De Laversano! 5-0 di De Laversano dopo una bella percussione, scambio con Gianluca Muto, palla in mezzo e De Laversano arriva per il più facile di tap-in, a Poli, Andrea Poli avanza, ancora Noschese con ottima scelta di tempo interviene e su quest'azione si conclude la partita, 5-0 Epimilf, partita senza storia che ha visto una sola squadra in campo, linea alle interviste. Siamo qui con Gianluca Muto autore di un gol nella vittoria di Epimilf per 5-0 contro il Ciccols One Cup, Muto, allora una prestazione convincente, un esordio convincente, partita senza storia fin dai primi minuti che si è conclusa appunto con un risultato netto. Sì, diciamo, è stato un buon esordio per noi, la prima volta scendevamo in campo tutti insieme e la difesa ha retto bene, poi il centrocampo più o meno si conosceva, poi insomma una serie di combinazioni fortunate e quindi cada uno di noi ha fatto il meglio per vincere questa partita, nonostante l'assenza di quella lotta del portiere che ci ha preso a lutto. Per Orlando, grazie. Portiere che però sostanzialmente oggi è stato poco impegnato anche perché come hai detto tu c'è stato un ottimo supporto da parte del centrocampo e la difesa, anche se magari era nuova, però non ha mai corso pericoli. Sostanzialmente c'è stata una sola conclusione pericolosa, la traversa però negli ultimi minuti sul 5-0. Sì, alla fine abbiamo un po' mollato, però alla fine era anche normale, diciamo. Poi siamo finiti alla fine senza cambi, quindi eravamo magari un po' a cortodiciato, però alla fine, come direbbe in signe, va bene, va così. Vabbè, e quindi si spiega anche il leggero calo degli ultimi minuti. Ringraziamo Muto, dal Millennium è tutto, alla prossima.